È stata inaugurata ad Arezzo la mostra che racconta lo straordinario viaggio del Grand Tour attraverso una tecnica fotografica inventata a metà dell'Ottocento, le stereoscopie, la prima versione dell'effetto 3D sulle immagini. Nel sottochiesa della Basilica di San Francesco sarà possibile visitare l'esposizione di 300 fotografie originali con una sezione dedicata ad Arezzo e le attrezzature originali per riprodurre e per vedere le immagini in 3D. La mostra sarà arricchita da un cortometraggio realizzato utilizzando le stereoscopie originali esposte in mostra e da animazioni e effetti speciali che condurranno il visitatore in un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso l'Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente. Il Museo archeologico nazionale Gaio Clinio Mecenate ospiterà invece la sezione della mostra dedicata alle grandi scoperte archeologiche Pompei, Ercolano, Pozzuoli ma anche gli scavi che hanno riportato alla luce l'Anfiteatro Romano di Arezzo. Questa mostra nasce in collaborazione tra il Polo Museale della Toscana e la società MUNUS, concessionaria dei servizi museali nella Basilica di San Francesco, Museo archeologico e Casa Vasari di Arezzo. È una collaborazione che abbiamo molto volentieri portato avanti per offrire alla città di Arezzo, in una sede prestigiosa qual è quella del Sottochiesa di San Francesco ma anche in questo caso il Museo archeologico Mecenate, un'esperienza direi anche culturale ma anche in qualche maniera spettacolare legata a un tema particolare, quello del viaggio che tra 8 e 900, a seguito del grande fascino che l'Italia sin dal 5, 6 e 700 aveva nei confronti di tutta Europa, è il viaggio alle Grand Tour, il viaggio attraverso le grandi attrazioni antiche, il mondo classico, il mondo poi moderno, rinascimentale. E quindi abbiamo deciso insieme alla società MUNUS e con la collaborazione del Fotoclub e la Chimera di Arezzo di elaborare proprio per questa mostra una sezione dedicata alle immagini aretine della città di Arezzo tra 8 e 900. Grazie per la visione! Grazie per la visione!